musica ok, questo è un po' l'anno estratto dal nostro ultimo disco abbiamo ancora alcune coppie e vendite laggiù quindi se volete provarci a casa molto, molto, molto sono tante, sono tante, si esatto, allora questo si chiama Jesus musica 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti